cari amici appassionati bentornati all'ormai consueto appuntamento con con la musica quindi suggerimenti idee di musica appunto da ascoltare con i nostri sistemi con i nostri impianti magari durante il fine settimana quindi occasioni per scoprire qualcosa riscoprire approfondire condividere oggi vi parlo dei Manhattan Transfer Manhattan Transfer è un gruppo vocale famosissimo fra i più famosi in assoluto che dal 71 fino a qualche anno fa insomma hanno prodotto una grandissima quantità di emozioni vere sotto forma di dischi ovviamente sotto forma di produzione musicale e ha accompagnato molti di noi nel nel mondo del del vocalismo dell'espressione vocale sia sotto forma di jazz che di musica contemporanea brasiliana ed altro i quattro componenti che dal dall'inizio hanno portato avanti la la struttura dei appunto del gruppo di Manhattan Transfer ha attinto a tutte quelle che sono le basi fondamentali del vocalismo vero e proprio album assoluto da da avere è uno degli album da da portare con sé nell'isola deserta dal mio punto di vista è proprio quello che vediamo qui vocalis del quale e sul quale vorrei parlarvi e puntare l'attenzione in primis è un album dal mio punto di vista fantastico perché quasi tutto cantato a cappella soprattutto un brano è another night in tunisia che è micidiale che si avvale della collaborazione di vocalisti pazzeschi come john hendrix mcferry qualcosa di veramente incredibile è un album ideale per non solo alietarsi li vi lascio assolutamente liberi di ascoltarlo emozionarvi con gli album i brani più belli ma è another night in tunisia e soprattutto l'album vocalis ci riguarda molto da vicino per noi audiofili non solo anche appassionati e hobbisti dell'alta fedeltà non solo appassionati di musica perché perché parliamo di voce e come spesso e volentieri vi racconto e spesso e volentieri vi sottopongo la voce è uno di quegli strumenti che in primis è naturale ci aglieta ci coinvolge direttamente siamo molto connessi biologicamente al discorso dell'ascoltare la voce quindi di discernere la voce e quindi nulla di meglio di un album che è basato tutto sulla voce per magari mettere alla prova il nostro impianto oppure riscoprire oppure imparare a approfondire conoscere dettagli del nostro hobby che è l'alta fedeltà quindi magari riuscire attraverso le voci attraverso la velocità delle voci la differenza tonale delle voci riuscire a comprendere se il nostro impianto è adeguato o meno se ci fa capire perfettamente se ci fa sentire la differenza all'interno dei vari fraseggi fra una voce e l'altra quindi tutto quello che è micro dinamica dettaglio ma senza dover cercare qualcosa all'interno di uno strumento di qualcosa che non è naturale per per il nostro per il nostro sistema sistema uditivo quindi niente di meglio che la voce soprattutto se articolata se jazz come in questo caso quindi con molta improvvisazione niente di meglio dicevo per approfondire per scoprire al meglio il nostro impianto e quindi ecco che la la passione per l'alta fedeltà il senso di tutto questo mondo comincia a diventare credibile comincia diventare sostanza ovvero utilizzare la musica per comprendere l'impianto che fondamentalmente non è proprio la parte iniziale non è quella il modo corretto ma attraverso questo riuscire ad apprezzare meglio la musica quindi un buon impianto ci farà sicuramente apprezzare sempre meglio i nostri i nostri beni ci farà scoprire sempre di più la musica torniamo ai Manhattan Transfer i Manhattan Transfer in questo disco ripeto mettono tutta la loro passione probabilmente il loro disco di punta almeno dal mio punto di vista è più è più godibile è più bello al di là di body and soul che è un altro album è bop du vop molto bello molto leggero si lascia ascoltare con una grande piacevolezza scivola via ci sono premi come air jean race rock house e sono tutti vi invito non vi non vi svelo nulla non vi spoilerò nulla ma vi invito ad approfondire c'è tanta informazione su Manhattan Transfer di quanta collaborazione di quanta energia e di quanta cultura è all'interno delle loro realizzazioni di questo album una cosa particolare c'è la collaborazione di john hendrix john hendrix è stato purtroppo un personaggio morto di recente che ha fatto dello scat dell'improvvisazione vocale la sua la sua passione e ha sostanzialmente fondato questo questo metodo questo questa via di espressione musicale in quest'album lui i componenti di Manhattan Transfer fanno delle improvvisazioni e delle escursioni tonali che dal mio punto di vista restano uniche in assoluto tant'è che quest'album è il secondo in in quantità di in qualità di secondo solo a thriller di michael jackson per la quantità di nomination e grammy awards è un disco dell 85 quindi è un disco una pietra miliare in un certo senso magari molti di voi non riconoscono spero vi possa vi possa interessare io li ho visti dal vivo tante volte sono stato anzi catturato in un aneddoto incredibile alexander platz parliamo del lontano 88 quando erano lì in questo club jazz club di roma ed erano lì per studiare e per lavorare poi per il prossimo ballantà jazz festival che si sarebbe tenuto negli anni successivi al palazzo dei congressi del dell'euro di roma erano lì per studiare per vedere erano in vacanza sostanzialmente non erano per suonare ma fu bellissimo eravamo lì eravamo giovani troviamo questi quattro personaggi all'interno del 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 locale che di colpo salino sul salino sul palco preso i microfoni iniziano ad improvvisare fecero lì una gem bellissima e della quale riporto un ricordo incredibile come l'ultima volta che li ho visti nel 93 al pescara jazz avevano fatto da contorno ad un periodo fantastico la cicoria in quel periodo jj johnson molto molto bello anche in quella in quel in quel contesto bene manattan transfer voce tanta bellezza nella voce umana maschile femminile escursus dal dalla bossa nova ai classici del jazz alla musica di natale qualsiasi tipologia di diciamo di musica è stata scoperta è stata gestita da loro vi invito ad ascoltarli vi invito a godere dei manattan transfer anche soprattutto con il vostro impianto messo al meglio per poter definire nel dettaglio più infinitesimale le sfumature di questo albero ciao a tutti buona musica